Ciao ciao a tutti e ragazzi oggi ragisco ai miei vecchi video di quando ero piccola Ragazzi vi volevo dire che questa domenica il 24 marzo sarò a Napoli in piazza Publishito Dalle 2 fino alle 6 e mezza e ci saranno tanti tiktokers, youtubers e vi aspetto tantissimo con ansia Allora ragazzi come primo video ci sono io che ho tipo tre anni e suono la chitarra I miei genitori se ne accorgono e corrono nella mia stanza e mi registrano mentre io dico cose a caso mentre suono la chitarra Ok ragazzi allora E' così, così, così fa papà E' così, così, così fa E' come ci fa E' poi E' poi è melo, 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 è melo. Così non va meglio, provo così, e e e poi da salverà. Come si fa di questa chitarra? Ragazzi non è chitarra, ma ticarra! E guardate il mio naso E come si fa questa chiesa? Non so perché faccio queste sborche Però comunque Mello era un omino Che si trovava in una cosa di plastilina Che ho avuto a Natale Non so perché mi è venuto in mente E l'ho chiamato Mello Va bene E comunque più che altro canticchio cose a caso Ecco E alla fine non so come funziona la chitarra Non ticarra Allora ragazzi In questo video qua avrò tipo 5-6 anni E vabbè comunque sto in America E canto Jingle Bells Però ascoltate in che strano modo lo canto Allora Jingle Bells Jingle All The Way All I find when you ride and sit in the sleigh Jingle Bells Jingle Bells Jingle All The Way All I find when you ride and sit in the sleigh Non so perché faccio così Però era un po' cretinotta E quindi ho lasciato stare la carriera da cantante E sono passata la carriera da pianista Meglio Ok ragazzi allora nel prossimo video mi sa che avrò tipo 8 anni E allora ho fatto tipo già stavo incominciando a fare diciamo la youtuber E comunque stavo usando un programma della Apple Che aveva degli effetti con dei colori e cose varie E adesso vediamo un po' Ciao bambini Voglio imparare l'inglese? Guardate Questo è il verde Green E questo è il giallo Yellow E questo qua è il rosa Pink E questo qua è il rosso Red E questo è il blu Blu Ciao bambini Ciao E ragazzi questi tre erano i video che ho scelto di quando ero piccola Spero tanto che vi siano piaciuti e che vi abbiano fatto abbastanza ridere Per esempio io che suono la chitarra e dico mello mello gira gira E vabbè se vi è piaciuto questo video e i miei video di quando ero piccola Fate tantissimi like E se volete iscrivetevi al mio canale Ci vediamo nel prossimo video Alla prossima ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima